Buongiorno, sono Cristian Rollo, siamo a CrossFit Sud, presenteremo per questa settimana i workout per CPTV. Allora, oggi andremo a costruire un massimale di tre rep sul deadlift, sumo deadlift e poi faremo un piccolo medcom. Ci riscalderemo un warm-up generico costruito da due round di un minuto e trenta di light row, 5 under release push up, 10 slow squat e 30 secondi di warrior squat. Dopodiché passeremo al bubble warm-up dove faremo cinque ripetizioni per ogni movimento, cinque good morning, cinque back squat, cinque air rotation, cinque strict press, cinque stiff legge deadlift e cinque front squat. Dopodiché andremo a curare il movimento del sumo deadlift per scaldandoci bene per trovare il massimale a tre rep. Finito questi 15 minuti dedicati al movimento di forza passeremo ad un piccolo workout costruito su 21 ripetizioni sumo deadlift e 21 bar facing bar piece, 15 sumo deadlift, 15 bar facing bar piece, 9 sumo deadlift, 9 bar facing bar piece. Il peso usato per gli advanced sarà massimo 60 kg per gli uomini, 40 kg per le donne, per gli intermedi massimo 50 kg per gli uomini, 35 kg per le donne e per i beginners massimo 40 kg, 25 kg per le donne più bar piece on the plate. Strategia sul workout. I 21 come al solito sono di diciamo tra virgolette riscaldamento, il workout vero e proprio inizia sui 15, sulle 15 rep, è qui che incomincio a sentire la fatica ed è qui che devo incominciare a spingere con la testa. Arrivati ai 9 è finita, vedo la luce dunque lì incomincio a spingere forte, cioè senza pensare a niente devo spingere come un treno per andare sotto la doccia bello contento, ok?